Provveditori Venerdì 7 giugno, San Roberto di Newminster, è il 158 giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 207 al termine. Il sole sorge alle 5.23, tramonta alle 20.56, la luna si leva alle 9.24 e tramonta a mezzanotte. A Venezia viene aperta una sottoscrizione di 300 azioni a lire 12 ciascuna. La somma servirà a far coniare una medaglia commemorativa dell'inaugurazione del monumento Tiziano Vacello, eretto nella Basilica dei Frari a cura di Pietro e Luigi Vendomeneghi. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso, salvo modesta attività cumuliforme pomeridiane in prossimità dei rilievi, dove non si esclude qualche rovescio o locale temporale. Temperature senza variazioni di rilievo in ulteriore locale aumento, in quota venti da sud-ovest inizialmente attesi in successiva attenuazione.